Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri a Antonietta d'Imperio e Giorgio di Iorio che oggi tagliano un traguardo veramente prestigioso. Infatti festeggiano 60 anni di matrimonio, di vita in comune, di condivisione di ogni momento felice e non della loro vita quotidiana. Il 29 dicembre del 1957 Antonietta e Giorgio si giurarono fedeltà e ancora oggi sono una coppia molto ben assortita e soprattutto unita. Agli sposi che conosco personalmente, Antonietta è stata un punto di riferimento della mia vita perché la conosco veramente da tantissimi anni, quindi sia ad Antonietta che a Giorgio, alle figlie Anna Maria, Mena e Carmela, ai nipoti Tiziana, Maria Carmela, Alessandra, Lucia, Giovanni, Pier Giorgio, Simona e Adriano e a tutti gli altri parenti vanno davvero gli auguri più affettuosi da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise che la loro unione possa durare ancora tanto. Siamo agli sgoccioli del 2017. Il Molise sportivo ha vissuto un anno intenso fatto di gioie e anche di qualche delusione. Come sempre il primo gennaio rivivremo con la trasmissione Un Anno di Sport le tappe importanti. Il dado e tratto il 2017 sportivo sta per andare in archivio. Come buona abitudine da parte della redazione sportiva di Telemolise il nuovo anno si aprirà con la trasmissione Un Anno di Sport. Il primo di gennaio, negli orari canonici del nostro TG, il rewind sportivo di quello che tra qualche giorno sarà ormai il vecchio anno. Per gli sport di squadra andremo a ricordare l'esito della stagione 2016-2017 e tracceremo un primo bilancio dei campionati ancora in corso. Per gli sport di squadra nel calcio e nel futsal il 2017 è terminato con il Giro di Boa. Per il basket tante le novità sotto canestro. Ampio spazio agli sport individuali e le grandi manifestazioni organizzate ed ospitate nella nostra regione. I collaboratori, giornalisti e tecnici delle tre sedi di Campobasso, Eserni e Termoli hanno coperto il territorio regionale dando visibilità a società e atleti che hanno rappresentato e valorizzato il nostro Molise. Il 2017 è stato un anno di grandi risultati ma non sono mancati i momenti difficili. Telemolise ha cercato di dare voce a tutti. Le nostre telecamere e i nostri inviati hanno raggiunto ogni angolo del Molise e non solo con immagini anche da fuori regione. Spazio a tornei nazionali e internazionali ma anche a quelle manifestazioni estive organizzate per riavvivare l'estate molisana. L'informazione sportiva di Telemolise anche quest'anno ha varcato i confini regionali, Lazio e Abruzzo, le dirette streaming sul sito www.telemolise.com e le dirette Facebook degli avvenimenti sportivi più importanti. Tutto questo e molto altro il primo di gennaio in un anno di sport in onda negli orari canonici del nostro TG Sport per ripercorrere l'anno che sta per terminare. Calcio di Serie D. Ieri la festa rosso-blu organizzata dai tifosi del Campobasso. È stata l'occasione anche per rappresentare squadra e staff tecnico. Ad Agnone domani ultimo allenamento dell'anno. Si è svolta ieri sera al Palaselva Piana la prima festa intitolata per la mia città indetta dai tifosi della Curva Nord Michele Scorrano. Una manifestazione iniziata nel primo pomeriggio di ieri è consistita in partite di calcio a 5 che hanno coinvolto 6 squadre, cioè gli stessi tifosi del Campobasso, l'Under-19 della Chaminade, la Fossaltese, alcune delle vecchie glorie del Campobasso, una delegazione del Ripalimosani ed un'altra del Calciocavallo. Un gruppo di ragazzi molisani emigrati a Milano per studio lavoro e che hanno costituito da qualche tempo questa simpatica formazione. Abbiamo citato le squadre in ordine sparso. Intorno alle 21 c'è stata la presentazione del Campobasso, un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, cioè a stagione ampiamente iniziata, ma comunque risultata appassionante per i presenti alla cittadella dell'economia. Sono intervenuti anche il co-presidente del Campobasso, Danilo Leone, lo staff dirigenziale nel suo complesso, il tecnico Antonio Foglia Manzillo ed i suoi collaboratori e tutti i giocatori, fatta eccezione per Gomez, Salim Ribeiro e Riccio, che ritorneranno in sede il 2 gennaio per il primo allenamento del nuovo anno. La serata ha visto momenti di forte coesione ed unione tra squadra e giocatori, rappresentata nei rispettivi interventi dall'allenatore e dal capitano Danucci. Quest'ultimo ci ha tenuto a precisare come il Campobasso adesso sia più vicino alla zona play-out che a quella che va dal secondo al quinto posto. Un intervento realista, quello di Danucci, teso anche a significare come nelle prossime 17 giornate davvero si debba fare qualcosa di straordinario per agganciare almeno la quinta posizione. A livello societario il Campobasso confida di ricucire uno strappo che si è venuto a creare con il dimissionario DS Michele Orabona. Ad ogni modo le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo anche alla nostra emittente nei Tg Sport di ieri raccontano di dimissioni irrevocabili. Staremo a vedere domani. La squadra sosterrà l'ultimo allenamento prima di augurarsi un buon 2018. Stessa cosa che farà anche l'Olimpia agnonese. La squadra granata ha vissuto in maniera serena la sosta per le festività ed è tornata a lavorare duramente. Ci sarà da correre nel girone di ritorno. L'Agnone infatti è in piena bagarre per scampare ai play-out. I 18 punti erano pressa poco la quota che voleva Di Meo alla fine del girone di andata. Qualcosina in più i Granata dovranno provare a fare nel girone di ritorno. Probabilmente 36 potrebbe non essere esattamente la cifra salvezza da raggiungere. I fatidici 40 punti invece dovrebbero tenere al riparo da ogni brutta sorpresa. Un obiettivo che può essere nelle corde dell'Olimpia agnonese. A patto che si provi a fare uno sforzo in più fuori casa, non tanto in fatto di prestazioni quanto proprio di risultati. Calcio a 5 di Serie B. È tempo di bilanci per Chaminad e CLN Cus Molisei. Settimana di sosta nel campionato di Serie B di Futsal. Un solo weekend di riposo si torna in campo sabato 6 gennaio nel giorno festivo dell'Epifania. Momento per rifiatare e riprendere energie in particolare per le due squadre molisane reduci da due derby consecutivi. Importante recuperare le forze dopo due match dispendiosi dal punto di vista mentale più che da quello fisico. Sicuramente la Chaminade esce rafforzata nello spirito. La squadra di Pizzuto ha vinto entrambe le stracittadine. Sicuramente un record destinato a durare negli anni. Mai c'erano stati due derby ufficiali nel giro di una settimana. Il rosso-blu hanno convinto soprattutto nel match di Coppa. Vinto con il finale di 7 a 5. Nel complesso prima parte di stagione assolutamente positiva. 19 punti frutto di 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. E terzo posto solitario in piena zona playoff. Un risultato al giro di Boa assolutamente importante se consideriamo anche che contro le prime due in classifica, Tombese-Ortona e Atletico-Cassano, la Chaminade ha vinto. Questo a testimonianza di un ottimo girone d'andata. Ci sono ancora margini di crescita su tutti. Quello di mantenere alta la concentrazione anche contro le squadre di bassa classifica. Alla ripresa, subito sfida importante in casa del Manfredonia. Morale diverso in casa CLN-Cusmo Lise. Le due sconfitte pesano dal punto di vista dell'entusiasmo. Anche la squadra di San Gennario comunque ha disputato un buon girone d'andata. Certamente si può e si deve fare di più. Il roster è molto giovane e in diverse occasioni questo elemento ha pesato. Al contrario, il gruppo storico continua ad offrire delle garanzie di rendimento. Inoltre si è messo in luce il giovane Matteo Sbarrichello, vero fiore all'occhiello della società del presidente dell'OMO. Ha lanciato buoni segnali anche il classe 99 Everton, appena arrivato alla corte di San Gennario, per lui doppietta nel derby di Coppa. Insomma, anche qui ci sono margini di crescita. Probabilmente la sosta è arrivata nel momento giusto per compattare l'ambiente e ricaricare le batterie. L'obiettivo playoff non è lontano, serve maggiore continuità nella seconda parte di stagione. L'avvio è davvero da circoletto rosso. Al pala Unimol nel giorno dell'Epifania arriverà la capolista Tombesi-Ortona. Chance importante al cospetto dei primi della classe, con la prospettiva concreta di far svoltare la stagione. Le sfide più belle, quelle che si ricordano sempre. Ecco, il CLN Cusmolise può davvero provare a riscattarsi nel migliore dei modi. Calcio Balilla-Castro-Pignano si è svolta un'altra tappa del torneo itinerante organizzato da Trivisonno, Biliardi e Giochi. Primo posto per Andrea e Rodolfo alla loro prima uscita stagionale. Secondo posto per il duo Costantino e Michelangelo. Vincenzo e Kevin hanno conquistato la terza piazza. Pallavolo, la Fisio Pro Nuova Pallavolo Campo Basso ha chiuso il 2017 con la prima giornata di ritorno del campionato interregionale. Claudia Mastro-Berardino, posto schiacciatrice della nuova Pallavolo Campo Basso fino adesso, qual è il tuo giudizio sul campionato sia di squadra sia a livello personale? Il campionato fino adesso è stato molto equilibrato. Ci sono belle squadre che ci hanno messo in difficoltà. Noi a nostra volta le abbiamo messe in difficoltà. È un campionato molto equilibrato, quindi ci sono risultati anche strani a volte, però dobbiamo acquisire un po' di continuità in più e cercare di risalire la classifica che a mio parere non è troppo veritiera perché diciamo che noi siamo davvero una bella squadra, ci sono belle individualità, quindi potremmo fare ancora meglio. In prevalenza siete tutte ragazze giovani. Quale messaggio puoi dare alle famiglie per spingere i loro figli a praticare questo sport che è un bello sport e come tutti gli sport dà tanti benefici non solo fisici ma anche sociali, di relazione e quant'altro. Sì, io personalmente posso parlare per la pallavolo, però penso che lo sport sia importantissimo per i bambini, per i ragazzi, dà disciplina, ti permette di imparare ad organizzarti meglio anche nella vita di tutti i giorni con la scuola. Quindi io dico ai genitori che non è vero che lo sport sottrae tempo alla scuola, anzi, penso che lo sport ti aiuti ancora meglio ad autogessirti. È una cosa molto importante che magari oggi manca un po' nei ragazzi. Podismo dopo domani, classico appuntamento con la scalata di San Silvestro. Gara podistica di fine anno, giunta alla diciottesima edizione organizzata dall'Atletica Menafro. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti a mezzogiorno di domenica sul piazzale del Castello Pandone. Mezz'ora dopo è prevista la partenza della passeggiata e dalle 13.20 ci sarà spazio per il via alla manifestazione non competitiva. Calcio regionale domani alle 15 sul campo di Serra Capriola verrà recuperata l'ultima gara del girone d'andata del torneo d'eccellenza. Frentania-Spinete, Francesco Scarati di Termoli, arbitro della partita. Intanto però il capitano della Frentania è soddisfatto del cammino dei suoi. Pino Troiano, finora però un campionato sicuramente positivo da parte di questa squadra. Sì, certamente. Abbiamo fatto il primo giro di Boa praticamente positivo. Nonostante le mille difficoltà all'inizio del campionato perché le prime 4-5 partite siamo partiti veramente male. Lo scotto della categoria più alta. Poi ci siamo ripresi, ci siamo compattati col mister. Abbiamo capito dove intervenire per riprendere i punti. Ora ci troviamo quasi a metà classifica. Quindi praticamente più che positivo. Il segreto del gruppo è sempre il mix giusto tra gioventù e esperienza. Dalla parte tua ci metti l'esperienza in un gruppo che è davvero ben amalgamato. Sì, io stimolo sempre i ragazzi a fare bene perché purtroppo questi sono campionati dove il lavoro paga. Quindi mi sono stati vicini i ragazzi e quindi siamo riusciti a uscire a quel tunnel all'inizio del campionato. L'esperienza vuol dire anche tanta passione che metti nel calcio. giochi ancora da tanti anni e la tua voglia ancora si vede sui campi di calcio. Sì, io riesco sempre a trasferire ai ragazzi quello che è positivo. La mia esperienza fatta in campi dove erano anche i campionati molto più difficili rispetto a questi campionati. Quindi riesco sempre a dare il massimo ai ragazzi. Nel 2018 cosa chiede la Frentania? Nel 2018 dobbiamo ripartire bene perché l'approccio è importantissimo per arrivare a fine campionato salvi senza arrivare alle ultime giornate che purtroppo poi c'è bisogno anche di tanta fortuna. Per l'Isernia, primo obiettivo raggiunto, si è laureato infatti campione d'inverno. Adesso testa al girone di ritorno per mantenere la vetta. Siamo con Giovanni Guadagnolo, direttore generale di quest'Isernia che si gode questo primo posto dopo la vittoria della LIFE. Anche tu Giovanni, vuoi tracciare magari un'analisi, un bilancio su questa prima parte di stagione? Il bilancio è molto positivo. Come ben sapete tutti quanti siamo partiti molto in ritardo rispetto alle altre però abbiamo allestito una squadra molto competitiva e come abbiamo promesso ai nostri tifosi ce la giocheremo fino alla fine. Non siete comunque intervenuti sul mercato con degli acquisti perché comunque magari si poteva rischiare di rompere il giocattolo? No, ma l'analisi l'abbiamo fatta. Migliorare una squadra che comunque ancora oggi è prima in classifica non è semplice. Sicuramente guarderemo il da farsi anche durante questa sosta. Potremo perché come abbiamo detto sempre in passato se era possibile trovare qualche rinforzo però che doveva veramente essere qualitativo altrimenti rimaniamo così come siamo. Abbiamo visto che è rientrato in corsa e in campionato anche il Termoli che magari qualcuno poteva dare per spacciato Mister Di Rienzo ha detto che preferisce una corsa a tre per magari livellare verso l'alto ancora più il girone. Tu come lo vedi? Ma io l'ho detto all'inizio i campionati a ottobre, novembre e dicembre non si vincono il girone di andata è andato ma il girone di ritorno è un altro campionato e Termoli sapevo che prima o poi veniva fuori perché l'organico è come il nostro e come quello del Vasto Girardi e vedremo chi ha più benzina nel motore arriverà in fondo. Dopo la sosta è fondamentale ritrovare la stessa Isernia se non magari in migliori condizioni. Questa sosta arriva a un momento giusto perché dobbiamo rifiatare e rimettere a posto un po' le cose abbiamo qualche acciacco qualcuno che deve recuperare meglio la forma e ripartiremo, me lo auguro, più forti di prima. La Vulcania con il successo nel recupero di Boiano ha conquistato quei punti che l'hanno fatta uscire fuori dai play-out. Paolo Iannarelli, allenatore della Vulcania cinici e spietati Un gol per tempo e portate via una posta in palio davvero pesante da Boiano. Sì, la partita è durata 160 minuti perché abbiamo fatto un'altra partita in mezzo un altro tempo in mezzo l'altra volta. Sì, una partita difficile su un campo pesante dove giocare non era semplice quindi è stata una partita diciamo così sul piano fisico-atletico è stata una partita combattuta all'inizio e alla fine penso comunque che il risultato sia meritato. A campo aperto avete dimostrato probabilmente di essere superiore al Boiano probabilmente questa è stata la tattica fin dall'inizio della partita Boiano che ha cercato di farla e voi che avete sfruttato gli spazi proprio in campo aperto dove siete stati spietati. La seconda fase è stata così la prima fase no abbiamo comunque cercato di fare la pressione alta non ci siamo riusciti a volte ci riusciamo, a volte no però chiaramente noi avendo le caratteristiche particolari delle tre punte delle tre mezze punte quindi per forza di cose anche non volendo abbiamo giocato in quel modo cioè ripartire, rubare e ripartire quindi eravamo consapevoli che si poteva fare una partita di questo genere eravamo consapevoli che comunque avremmo sofferto perché ripeto il campo è un po' pesante oggi. Ecco avete giocato una partita che già si era giocata e che stavate vincendo dunque nella doppia prova anche se l'altra partita non si era conclusa avete come se aveste vinto due gare voglio dire. Sì, alla fine sì purtroppo sono solo tre punti se fossero stati cinque sarebbe stato meglio però comunque siamo contenti perché è uno sconto diretto quindi fa morale per la squadra perché non abbiamo attraversato un bomberito adesso siamo in una fase di ripresa però il cammino è ancora lungo. Alla ripresa è il vasto Girardi non partite battuti perché in Coppa Italia tanto per fare un esempio avete battuto l'Isernia quindi non vi dovete sentire già sconfitti in partenza. Beh, chiaramente le squadre vanno affrontate a seconda della forza non si possono affrontare le squadre tutte allo stesso modo noi sappiamo il vasto Girardi è una squadra molto forte però, ripeto si gioca in undici quindi noi andiamo sicuramente a fare la nostra gara. C'è ancora tempo per iscriversi al primo campionato 3 contro 3 di Street Soccer il torneo uniserà nella seconda metà di gennaio gare tutti i lunedì al Pala Unimol con orari serali le squadre potranno essere composte al massimo da sei elementi e vi segnaliamo anche l'appuntamento con la pasticceria la Dolce Napoli del nostro amico Nicola Riccio in Via Nobile a Campobasso il primo gennaio la caffetteria aprirà alle 3 del mattino per iniziare con gusto il 2018 colazione con cornetti classici ma anche ai nuovi gusti di pan di stelle bounty e tante altre sorprese sarà sicuramente il modo migliore per iniziare il 2018 bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio e